091 96 11 08 Falsi invalidi, 100 indagati ad Agrigento Dietro le minacce magistrati c'è un'unica matrice, a dirlo Nino Di Matteo Viaggio Conte è tornato alla missione a Palermo Buonasera, do appuntamento con l'informazione di Medianews Oggi è lunedì 22 settembre Come avete sentito nei titoli Falsi invalidi, 100 indagati ad Agrigento Fra gli arrestati anche dei medici Corruzione falsa e truffa aggravata Ad Agrigento sono 19 compresi 10 medici Le persone destinatari dell'ordinanza cautelare del GIP Ottavio Mosti è messa su richiesta Del procuratore Renato Di Natale Dell'Aggiunto Ignazio Fonso E del sostituto Andrea Maggioni Per sé è stata disposta la custodia in carcere Per otti domiciliari E a 5 indagati è stato imposto L'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria Gli indagati sono complessivamente 101 Dal 2009 al 2013 Si è svolta un'imponente campagna di controlli Che ha interessato Oltre 850.000 persone titolari di pensione O indennità di accompagnamento Sono stati quindi controllati Circa un terzo degli interessati Sono state effettuate dall'Inps 854.192 verifiche straordinarie Sono state revocate per mancata conferma Dei requisiti sanitari O assenso a visito medico legale 67.225 provvidenze Che corrisponde al 7,9% delle verifiche Maxi operazione dei carabinieri Della compagnia di Randazzo Eseguite 8 ordinanze di custodia cautelare A carico di soggetti legati al clan mafioso Dei Ragaglia Ai quali sono contestati a valutitoli Reati di associazione a delinquere Di stampo mafioso Furto, estorsione, usura e sequestro di persona Si tratta di un'associazione criminale armata Legata alla famiglia catanese Dei Laudani Dedita a delitti contro la persona e il patrimonio Le indagini hanno avuto inizio nel 2011 Hanno permesso di evidenziare Il tentativo del gruppo criminale Di assumere il controllo del territorio Cambiamo argomento È stata sdoppiata la classe pollaio Del liceo delle scienze umane Manzoni-Juvara di Caltanissetta Alle 8 di questa mattina La dirigente scolastica Giuseppina Mannino Ha dato l'annuncio ai ragazzi Riuniti in Aula Magna Che hanno applaudito nell'apprendere la notizia Dietro le minacce ai magistrati C'è un'unica matrice A dirlo dopo l'ennesima intimidazione Alle toghe palermitane Il sostituto procuratore Nino Di Matteo I singoli episodi di minacce ai magistrati Dei giorni scorsi Vanno letti in un unico contesto Hanno un'unica matrice Attraverso i loro contenuti La spedizione di lettere anonime Anche presso le abitazioni private dei magistrati Attraverso il gesto di posare una lettera anonima Sulla scrivania del procuratore generale Qualcuno evidentemente mira a destabilizzare La serenità necessaria per il nostro lavoro Anche tentando di provocare in noi Una sensazione di vulnerabilità Della nostra sicurezza personale E persino familiare Lo ha detto in intervista rilasciata Alla GR1 della RAI Nino Di Matteo Sostituto procuratore di Palermo Di Matteo ha sottolineato Che questi episodi negli ultimi due anni Hanno riguardato magistrati Che si occupano di inchieste importanti Che si sono imbattuti O hanno sfiorato con le loro indagini Il tema del rapporto Tra i vertici di Cosa Nostra Apparati dello Stato E ancora Di Matteo ritiene Che questi episodi Che colpiscono proprio quei magistrati Non rappresenti una mera coincidenza Svolta nelle indagini sul flop del Piano Giovani Pronta la convocazione Dell'ex dirigente generale Della formazione professionale Anna Rosa Corsello E ne procura L'inchiesta sul Piano Giovani Potrebbe essere ad una svolta Sarebbe pronta infatti La convocazione di Anna Rosa Corsello Al Palazzo di Giustizia di Palermo Una convocazione alla quale Dovrebbe presentarsi Accompagnata da un avvocato Segno che probabilmente I pubblici ministeri Potrebbero aver deciso Di scrivere L'ex dirigente generale Della formazione professionale Nel registro degli indagati Con l'ipotesi di abuso d'ufficio La Corsello avrebbe in questo modo La possibilità di fornire La sua versione dei fatti Ai pubblici ministeri Ma non in qualità di persona Informata sui fatti Come per gli assessori alla formazione Nell'iscilabra e al lavoro Giuseppe Bruno Ma come indagata La vicenda deve essere approfondita Troppi nodi da sciogliere ancora Sul clamoroso flop del piano giovani La Corsello in audizione all'Ars Nelle settimane scorse Aveva più volte sottolineato Come l'assessore Scilabra Non soltanto conosceva Tutti i dettagli del piano giovani Ma ne sarebbe stata responsabile A cominciare dagli affidamenti diretti Su cui si concentrano Le maggiori attenzioni dei magistrati Bisognerà accertare adesso Le responsabilità di ogni singolo protagonista Della vicenda Vertenza della pubblica amministrazione Il prossimo 8 novembre a Roma Manifestazione nazionale Che sarà preceduta Da assemblee dei lavoratori Ascoltiamo Alfonso Farruggia Segretario generale Sicilia Della UIL Pubblica amministrazione Noi abbiamo registrato Che nella pubblica amministrazione Stanno facendo tagli lineari Chiusura di uffici Qua in Sicilia Stanno creando veramente disagi Ai contribuenti Vecchiette dovranno fare Chilometri e chilometri Per raggiungere l'ufficio Che è rimasto aperto Sicuramente ci sono cattivi dirigenti Cattivi dirigenti Che non sanno fare il proprio mestiere E creano solo confusione Oltre alla cattiva politica Che a livello nazionale Mette in campo una spending review Indiscriminata Dove non si comprendono Veramente le logiche Di chiusura di uffici Come sindacato Cosa pensate di fare? Noi proprio venerdì A Roma Ci sono stati gli attivi Cigelle e Cisclo UIL Dove abbiamo deciso Per il giorno 8 novembre Di fare una grande manifestazione nazionale Sarà seguita chiaramente Adesso organizzeremo Delle assemblee E non Secondo me Metteremo in campo Anche una manifestazione regionale Per far capire All'utenza Che tutte le disfunzioni Della pubblica amministrazione Tutti gli attacchi In questi anni abbiamo avuto Sono dettati Proprio da una cattiva politica Spiegheremo Le motivazioni Con dei volantini Quindi faremo anche Un volantinaggio Quindi sarà una campagna Mediatica Per far capire Proprio che i pubblici dipendenti Si alzano la mattina Fanno il proprio dovere Si recano a lavorare E sono pagati Con uno scarso stipendio Anche perché i contratti Sono bloccati dal 2010 E quindi Dobbiamo far capire Che debbono ringraziare Il lavoro giornaliero Dei pubblici dipendenti E che se qualcosa non va È per colpa della politica Mare Nostrum Soccorsi nelle ultime 24 ore Quasi 600 migranti Fra i quali superstiti Nel nafraggio All'argo delle coste libiche Avvenuto ieri Almeno 10 persone Sono morte nel nafraggio Di un barcone carico di migranti Avvenuto ieri A circa 30 miglia Dalle coste libiche Una trentina di persone Risultano disperse 55 sono state tratte in salvo Da un mercantile La notizia è stata confermata Dalla guardia costiera italiana Le persone tratte in salvo Hanno riferito Che sul barcone Diretto verso l'Italia Vi erano un centinaio di migranti Altre operazioni di salvataggio Sono state registrate Sempre ieri Nell'ambito Dell'operazione Mare Nostrum Il pattugliatore Sirio Riferisce alla marina militare A soccorso a sud di Lampedusa Un gommone Con 105 migranti Tra cui una donna E un minore La fregata Liseo Durante la notte Ha poi soccorso 96 migranti Da un'imbarcazione in legno La nave Amfibbia San Giusto Ha recuperato 105 migranti Da un gommone In condizione di precaria galleggiabilità E successivamente Ha marcato 229 migranti Già recuperati Dalla nave mercantile norvegese Sempre ieri pomeriggio La moto vedetta CP302 Ha soccorso 33 migranti Da un'imbarcazione Trasportandoli a Lampedusa Tra loro anche Una donna incinta Viaggio Conte È tornato alla missione A Palermo Ha raccontato Di avere vissuto Un'esperienza Di preghiera E di penitenza Molto forte E adesso lancia Un nuovo appello Alle istituzioni Viaggio Conte Sembra essere Definitivamente Ritornato Alla missione Ieri sera Ha partecipato Alla messa Celebrata Da Don Pino Vitrano Raccontando però Di aver vissuto Un'esperienza Di preghiera E di penitenza Molto forte E di sentirsi Stremato Il mio unico conforto È la montagna Ha detto il missionario laico Mi metterò in ascolto Con il buon Dio E sento nel mio cuore Che lui Mi dirà Come mi devo comportare Nei prossimi giorni Dopo 13 giorni Di pellegrinaggio Ai piedi Tra le colline Che circondano Palermo Viaggio è dunque Tornato a casa Lo abbiamo visto Anche girare Per le vie della città Con una croce in spalla Proprio lui Che fino a un anno e mezzo fa Non poteva neppure Alzarsi in piedi Ed era costretto Su una sedia a rotelle Si dice sia miracolosamente guarito Dopo un viaggio a Lourdes Il 3 settembre scorso Ha lanciato un duro atto D'accusa Alle istituzioni locali Adesso ha nuovamente Rivolto un appello Alle autorità Riprendete le strutture Vi prego Anche tutti gli accolti Dice Purtroppo non riesco più A garantire loro La luce Il gas L'acqua I viveri Le medicine E i tantissimi bisogni Per poter portare avanti Le comunità Come una mamma Che non ha da dare Da mangiare al proprio bimbo Ed è costretta Ad abbandonarlo Comune Regione De Manio Prefettura E Curia Lo hanno ascoltato E adesso Ci auguriamo Lo facciano di nuovo Incidente mortale Ieri sera a Palermo L'impatto si è verificato In corso Calata Fimia Per la vita Una donna Di 73 anni Francesca Paola Di Nicolao La donna Stava attraversando La strada Quando è stata Investita In pieno Da uno scooter Sono intervenuti I sanitari Del 118 Ma per lei Non c'è stato Nulla da fare Nasce a Palermo Il registro ufficiale Degli obbisti E degli artisti Di strada L'iniziativa Porta alla firma Della Confederazione Italiana Degli esercenti Commercianti Salvatore Bivona Presidente Provinciale Regionale Della Cine Che ci ha spiegato Di cosa si tratta Il progetto Che è la Cine Che ha in mente Per i prossimi Per un prossimo futuro Per la città Di Palermo Considerando Che ormai La strada È quella Della pedonalizzazione E quindi In qualche modo La città Va riempita Di contenuti Abbiamo detto All'assessore Marano Anche in vista Delle prossime Festività Di Natale Di riempire Questi quartieri Anche con luci Con intrattenimento Fatto fra gli obbisti E gli artisti di strada Bisogna trovare Il sistema Di valorizzare Queste eccellenze Che abbiamo a Palermo E ne abbiamo tantissimi Cercando di focalizzare E trovare Il sistema Dell'intrattenimento globale La città Specialmente Per il periodo di Natale Deve essere Una città In festa D'altra parte Il Comune di Palermo E tutti gli enti pubblici Ormai fondi Non ne hanno più Sono tutti Quasi a zero E quindi Diciamo che L'alternativa È quella Che in qualche modo Questi obbisti Possano in qualche modo Intrattenere le persone E a basso costo Naturalmente Anche il Comune Deve fare la sua parte Perché Non deve chiedere Il solo pubblico E quindi Mettere nella condizione Di poter Esprimere Quella che è La loro arte E gli artisti In qualche modo Fare Una Raccolta A cappello E quindi In qualche modo Diciamo Con le diverse economie Noi riusciremo A basso costo A trovare Quell'intrattenimento Utile Necessario E valorizzare I nostri artisti Che in qualche modo Possano esprimere Gioiosità Per la città E per queste festività A basso costo Quindi per Fomentare l'economia Che non sta vivendo Un momento Particolarmente errosio Certo Loro assolutamente Non fanno concorrenza Alle commercianti In sede fissa Anzi Creando Quell'intrattenimento Fanno in modo Che la gente Si possa avvicinare Verso queste luci Verso questo Intrattenimento Girando poi Naturalmente Tutta la piazza L'isolato Il quartiere E quindi Incrementando Quello che sono I consumi Del commercio Su sede fissa Adesso Cambiamo Decisamente Argomento Con un appuntamento Morti viventi Mumie Vampiri E pagliacci Assassini Arriva a Palermo Il madrileno Circo degli orrori Dopo la tournée In Spagna America Latina E Miami Gli artisti Del circo Degli orrori Si esibiranno Alla fiera Del Mediterraneo Da venerdì 26 settembre Al 19 ottobre Per la fiera Si tratta Di una Rinascita Lo spazio Riapre la città Dopo alcuni anni Di chiusura E ospita Un grande Tendone nero Dove prenderà Vita lo spettacolo Ogni sera Per mille spettatori Lo spettacolo Non è consigliato Ai minori Di 10 anni Ed è tutto Grazie per essere stati con noi Arrivederci Alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti